quando si dice chissà quali potrebbero essere le idee per un eventuale scrim set ne abbiamo parlato più volte su questo canale immaginando il possibile film solo che molto spesso le idee migliori nascono nella vita reale io vi voglio raccontare una situazione inquietante che ho vissuto e che è proprio degna anche di scrim ascoltatemi perché è vero vi giuro è tutto vero ero andato a vedere una mia amica attrice recitare a milano ero in zona porta romana teatro franco parenti vi dico proprio tutto nello specifico dopo averla salutata dopo aver visto lo spettacolo vado sulla metro gialla e praticamente dovevo cambiare alla stazione duomo era circa mezzanotte e un quarto quindi proprio le ultime metro milanesi stavo attendendo la metropolitana la russa e c'era tantissima gente immaginatevi la scena di scream 6 proprio nel metro tantissima gente maschi femmine ragazzi anziani di tutte le età io avevo il cellulare in mano e stavo ascoltando la musica ad un certo punto noto che sul cellulare mi compare la schermata di airdrop e un nome già inquietante di per sé tipo iniziava con la c con tante lettere con tante lettere accanto non saprei dirvi qualcosa in più perché non me lo ricordo però c'era scritto immaginatevi c p t insomma nome a caso vuole condividere una foto con te accetta rifiuta e ho detto vabbè sarà stato qualcuno che ha sbagliato e immaginatevi la scena in cui io mi giro e vedo tutti con il cellulare in mano è ovvio che ti prende la curiosità di scoprire anche chi per sbaglio possa aver cliccato condividi con me questa foto già però immaginando ma cioè se è un nome che non conosce perché avrebbe dovuto sbagliare però io rifiuto poi c'era anche la curiosità chissà che foto è perché nella mente la curiosità sale non faccia tempo a rifiutare passeranno dieci secondi lo stesso nome vuole condividere una foto con te e io ho detto caspita ho continuato a guardarmi intorno e veramente era una scena da film nella metropolitana milanese a mezzanotte e un quarto mezzanotte viventi e cercate di immaginarvi me che guardo senza però nemmeno voler star lì a fissare le persone tentando di intuire che potesse essere stato a voler inviarmi questa foto perché una volta può essere uno sbaglio ma due quindi io ancora prima di cliccare accetta o rifiuto ho iniziato a guardarmi intorno anche perché sapevo che almeno spero chi stesse tentando di mandarmi la foto non sapeva che io fossi cioè nel senso quindi beh era strana come situazione alla fine ho rifiutato non è più successo anche perché è arrivata la metro siamo saliti magari quello o quella che tentava di mandarmi questa foto è rimasto sulla banchina ad attenderne un'altra però io sono rimasto con il dubbio e se avessi accettato che foto sarebbe stata ma soprattutto ho immaginato che incipit figo potrebbe essere per un eventuale scream immaginate no nell'era degli iphone di airdrop una qualunque persona magari la vittima della scena iniziale che si ritrova su una metropolitana di notte tizio qualunque a caso x vuole condividere una foto con te la ragazza o il ragazzo preso dalla curiosità accetta e chissà cosa potrebbe trovare magari la foto di uno dei suoi amici uccisi da ghostface magari la foto proprio della persona che ha ricevuto la foto in un fotomontaggio ricoperta di sangue o chissà cosa però potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di sicuramente accattivante per il franchise di scream e io ci ho pensato perché ok io poi ho pensato all'horror ci trovassimo che ne so in un film di gaspar noè magari clicco accetta ci trovo una foto di una ragazza bellissima ho buttato a terra una bottiglia d'acqua dicevo si fosse in un film di gaspar noè magari scenario questo vuole condividere una foto con te o per meglio dire questa vuole condividere una foto con te accetto lei nuda taglio altra inquadratura siamo dietro a pipim 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 immaginate la scena di gaspar noè proprio ce lo vedo che sia un maschio che ricevano che riceve una foto da una ragazza o viceversa cambio di scena e ci si ritrova in questa scena d'amore alla love esplicita però io che amo l'horror ho detto chissà quante cose sarebbero potute venire fuori magari è stato uno sbaglio magari è stato invece un qualcosa anche di scherzoso chi lo sa che magari un burlone non abbia iniziato a dire voglio inviarlo a destra e a manca per vedere anche come esperimento sociale in quanti cliccheranno accetta oppure potrebbe essere non me ne intendo una sorta di truffa tu accetti e ti installano un virus nel telefono io non lo so ho solo pensato all'inizio di un ipotetico screen in cui attraverso quella foto accettata si scopra un omicidio e quindi niente ragazzi volevo condividere con voi questa cosa ed è stata un'esperienza particolare come se fosse stato scream nella vita reale quindi fatemi sapere se anche voi aveste mai vissuto delle situazioni similari fatemelo sapere nella sezione commenti e niente ci vediamo presto nelle info trovereste tutti i link per abbonarvi al canale e se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana ma anche per seguirmi sulle mie pagine social un saluto e alla prossima